Buongiorno, benvenuti alla segna stampa di oggi sabato, vigilia di Pasqua 14 aprile del 2017. Che cosa è successo sui giornali? La cosa fondamentale è i venti di guerra, diciamo così, per chi è appassionato delle questioni militari c'è di tutto, ci sono tutti i dettagli sulla bomba sganciata in Afghanistan, ci sono le mosse della diplomazia trampiana per poter combattere la Nord Corea, ci sono tutte le analisi più sofisticate del mondo per gli appassionati di politica estera. Air China ha smesso di volare in Corea del Nord e questo è un segnale importante, le sostengono alcuni perché è il vero segnale della preoccupazione che una bombetta potrebbe scattare lì. Ma come dicono tutti quanti la bomba in Corea del Nord da parte delle portali americane è molto diversa rispetto a quella degli jihadisti, perché lì c'è un esercito di un milione di persone piuttosto preparate, con le bombe nucleari, con missili, insomma si tratterebbe di una vera e propria guerra. La politica estera forse è un po' più interessante perché c'è più vicina, cioè le elezioni proprio qua da Parigi è molto chiaro che questi signori si stanno giocando il futuro in Europa e le tensioni politiche a Parigi sono molto simili a quelle che abbiamo in Italia, cioè si sostiene l'establishment, i media, il Figaro, i giornali importanti considerano la questione della Le Pen una questione di populismo, di parvenu, nonostante sia andata così vicina alle elezioni amministrative dell'ultima volta. Però oggi sui giornali italiani la cosa che riguarda la Le Pen riguarda una critica che la Le Pen avrebbe mosso nei confronti del Papa e quindi mettono tutti quanti in relazione, il giornale pure, il Papa contro la Le Pen o la Le Pen contro il Papa, se volete. Ma in realtà se poi andiamo a vedere bene gli articoli che cosa dicono, la Le Pen dice che la Chiesa, non il Papa, anche se ovviamente questo è messo in relazione alla Via Crucis di ieri, la Chiesa si interessa di tutto fuorché di ciò che la riguarda. Questa è la frase incriminata di Madame Le Pen. E poi se andiamo a leggere ancora con maggiore attenzione i giornali francesi, a un certo punto te lo fanno vedere Figaro, ma anche gli altri te lo fanno vedere nelle pagine, in fondo gli articoli, il punto fondamentale è che la Le Pen non ce l'ha solo o tanto contro il Papa, ma ce l'ha contro la conferenza episcopale francese, la CEI, noi la chiamiamo, è quella che conosciamo in Italia, di garantino, la conferenza episcopale italiana, mentre la conferenza episcopale francese se la prenderebbe, secondo la Le Pen, troppo contro le posizioni anti-immigrati e anti-musulmane, che non è anti-musulmane, ma anti-fondamentalismo, uno è musulmano che avrebbe preso la Le Pen in casa. Andate a leggere bene quindi che cosa vuol dire la questione della Le Pen. E poi c'è la questione, l'altra grande tema di giornata è le bufale, anche a voi sarà capitato, proprio a voi che mi state ascoltando, perché è capitato a me, la foto della sorella, sua disonsorella della Boldrini, che si sarebbe occupata di cooperativa. A me mi è arrivata in posta privata molte volte, non l'ho ovviamente condivisa, perché tendo a non condividere le lettere che mi mandate in posta privata, a meno che non siano delle informazioni su quali riesco a lavorare. Beh, quella lettera e quella foto è totalmente falsa, quella foto non è della sorella della Boldrini, ma di un'attrice, di un'attrice di una serie americana che potete vedere su Netflix, e la cosa più grave è che la sorella della Presidente Boldrini è morta per una malattia alcuni anni fa. Quindi si tratta non solo di una fake news, ma di una news orrenda, orribile, disgustosa. Chi l'ha messa in campo sono i soliti troll che l'hanno inventata oggi, mi sembra che qualche giornale lo recuperi. Insomma, state attenti quando parlate dei vitalizi dei parlamentari, della sorella della Boldrini, dei parenti di Renzi. Cioè la rete costruisce a posta bufale verosimili che fanno incavolare i destri contro Renzi, i sinistri contro Berlusconi, insomma la solita storia. Un tempo c'erano soltanto Repubblica e i giornali d'assalto che si inventavano questo clima, adesso c'è anche la rete che se lo inventa. Quindi io non sono uno scandalizzato per le fake news, penso che siano sempre esistite. Oggi infatti è interessante il pezzo di Filippo Facci sulle fake news che prende spunto appunto dalla questione della Boldrini che denuncia questa orribile operazione mediatica fatta contro di lei dalla rete, da questi troll, ma dice veramente Facci ed è da leggere sul libero. Beh, però ci sono dei campioni, degli autorevoli cazzari che sono quelli del fatto, così li definisci autorevoli cazzari, che sono quelli del fatto che sono quelli che lanciarono la culone inchiavabile, vi ricorderete quell'intercettazione che non è stata mai trovata di Berlusconi nei confronti della Merkel o le intercettazioni e i servizietti, tra virgolette, della Carfagna. Insomma, il fatto, dice, Facci è il maestro di queste specie di soffietti di cui poi alla fine rimane qualche cosa, ma in realtà non c'è nulla. Non pensate quindi che sia la rete l'artefice delle fake news, anche i giornali ne fanno eccome. Farina non dice sempre sul libero c'è un doppio cazzotto nei confronti della Boldrini, nonostante questa storia nei confronti della Boldrini sia orrenda, beh, ma Farina dice sì, è orrenda, siamo tutti solidari con la Boldrini, però è altrettanto orrenda quella fake news che lei sta rilanciando e cioè che il fondamentalismo islamico non sia un grande problema. Detto questo, Zurlo invece difende la Boldrini sul giornale, quindi anche i giornali di centrodestra un po' divisi sulla vicenda. Io penso che sia talmente orrenda la questione che riguarda la Boldrini e questi troll che converrebbe una volta essere attaccati come sono stato io, come è stata lei, come sono stati attaccati altri da questi orribili personaggi che dietro una figura epica come quella del troll sono degli sfigati che sulla rete pensano di essere potenti. Sapete a me quanti insulti mi arrivano? Purtroppo non ho sempre la forza della Boldrini di poterlo denunciare pubblicamente. Bene affatto a farlo. Andiamo avanti sulle notizie. Vabbè, oggi intervista a Repubblica e al Corriere della Sera sulla Consip di Orlando che dice zero. Sostanzialmente ho chiesto ai carabinieri, ho chiesto di indagare sulla questione. Sai che notizia. Molto interessante il dato, l'unico interessante dato oggi economico, ce l'ha il sole 24 ore, come è ovvio che sia, e cioè che in Italia cale la produttività del lavoro, il che vuol dire che noi lavoriamo poco, ma comunque produciamo meno rispetto alle nostre potenzialità e siamo il paese meno produttivo d'Europa. E questo è veramente il dato negativo. I motivi sono tanti, le tasse, la burocrazia, le organizzazioni del lavoro, le imprese stesse che hanno dimensioni e organizzazioni del lavoro evidentemente non efficaci. Sempre sull'altra grande questione economica riguardo all'Italia e sull'Italia Gubitosi, che è il Presidente, dovrebbe diventare Presidente, lo conosco bene perché era il mio capo quando ero in Rai, devo dire che è riuscito per ora a mandare a fare un accordo con i sindacati di all'Italia. L'accordo prevede riduzione di 980 lavoratori, quanto mi sembra, 1.300 che prevedevano prima, una riduzione del costo di lavoro di 670 milioni nel giro di 5 anni e tante altre cosette. Lui vorrebbe anche aumentare gli aerei a lungo raggio. Insomma, mi sembra la mano di Gubitosi, però i sindacati l'hanno accettato e devono accettare i 12.000 lavoratori. Il sindacato dei piloti oggi parla su Repubblica e dice meglio il commissariamento rispetto a questo piano. Vi dico la verità, se dovesse essere commissariata la d'Italia, fine. Forse il sindacato dei piloti, che sa perfettamente, mi sembra che sono migliaia di piloti dell'Italia che un lavoro lo trovano in un'altra maniera, vanno tranquilli e non si rendono conto che il resto dell'azienda salta per sempre. Quindi sarei un po' più prudente nei piloti a dire che è meglio il commissariamento. Ultima cosa, la RAI, in solo 24 ore dopo un'incredibile intervista di ieri a Campodallorto in cui non si erano accorti di quello che stava avvenendo in RAI, ma invece sembrava una specie di magnificazione di Campodallorto, detto da noi il Conte Mascetti, e lì è stato bravo perché Comin, il suo ufficio stampa, cioè il Conte Mascetti, che ha Parapapa, Parapapa, Parapapini, che è pagato da tutti noi per fare il capo ufficio stampa della RAI. E che cosa ha fatto il capo ufficio stampa della RAI? Siccome non sa fare evidentemente il suo lavoro, ha preso come consulet, mi sembra 60, 90 di euro all'anno, si dice, i dati ufficiali dovremmo averli, essendo un'azienda pubblica, ma non sono riuscito a trovarli, il Conte Mascetti attraverso Parapapa, Parapapini, ha preso un altro che si chiama Comin, che gli fa da ufficio stampa. Ecomine evidentemente ieri a bella sola al sole, due giornalisti che hanno fatto un'intervista senza rendersi conto che stava avvenendo un casino in Rai, sembrava l'azienda migliore del mondo. Oggi il sole se ne accorge, racconta i casini che tutti i giornali ne hanno raccontato ieri, vi racconta oggi, ma in più fa il sole e cioè tira fuori i numeri. Devo dire che i numeri che tira fuori sul bilancio della Rai e il sole sono davvero interessanti, leggetevi i ricavi. Quindi questa Rai, i veri conti li trovate oggi sul sole 24 ore, la cosa incredibile è che sono riusciti a spendere 54 milioni di euro in più per il personale e sono riusciti i conti Mascetti a assumere 152 persone in più, oltre a quelle che aveva a disposizione. I costi Rai sono aumentati di 162 milioni, vostri 162 milioni, vostri 162 milioni, costi in più per il conti Mascetti. Ti viene la rabbia incredibile e soprattutto sono aumentati molti costi per le produzioni esterne. Il fatto quotidiano, dice Renzi, è riuscito a cacciare anche il conte Mascetti. Fantastica questa indiscrizione del fatto che è solo lui, perché oggi il fatto difende il conte Mascetti. Allora abbiamo avuto qualche problema nelle immagini di oggi a Singhiozzo da Parigi, vi faccio tanti tanti auguri per domani e Pasqua e noi ci vediamo se ci facciamo anche domani mattina per la zuppa di porro pasquale. Io l'agnello lo mangio alla faccia dei... vabbè lasciamo perdere. Rispetto per tutti. Respect. Ciao.